buongiorno oggi è il 30 luglio e vado a fare un giro in bicicletta fino in val conca quindi parcheggio a porto verde e da lì ci andremo ad arrampicare con la bici nella ciclabile del conca quindi una sorpresa vedremo come sarà penso bella e quindi a dopo ciao come si era già vuotata a metà perché sono stato maldestro imprevisto once upon a time and you are mine you search for the only trees to take my heart you cut down every branch through the forest here to dance just to keep me safe a son coupà a son coupà Cazzo sono buone Ma sei veramente sicuro di voler arrivare fino in quel punto? Guardalo bene Guardiamo bene Cacchio Eccolo E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta siamo a Montechiore Conca Qua riprende l'acciclabile fino al mare Bellissimo giro Grazie 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 Grazie